massimo de vita si è ritirato uno dei pilastri del fumetto mondiale ha deciso di appendere la matita al chioto dopo 60 anni di attività se volete capirne di più sulle ragioni di questo ritiro di questo abbandono lo abbiamo intervistato in un pezzo secondo me grandioso clamoroso e anche pruriginoso per alcune dichiarazioni che fa il maestro e lo trovate sul nostro sito questo video invece nasce per omaggiarne la carriera e alcuni membri dello staff si sono sentiti in dovere di parlare della loro storia preferita di questo grandissimo maestro ho l'onore di cominciare questa parata con il matrimonio di zio paperone che io possiedo in questa versione incredibile tra l'altro un battellapesca impressionante vi consiglio di recuperarlo se lo vedete da qualche parte in qualche mercatino dell'usato massimo de vita era un autore che cercava sempre la complicità con il lettore lo faceva tramite le livia scalie tramite delle parentesi tonde aperte dei balloon e qui lo fa incominciando la storia con un una foto non con il titolo ma con una foto la storia inizia così ci fa vedere zio paperone e brigitte sposati incredibile ragazzi pazzesco e poi ci spiega come siamo arrivati qui questo punto pazzesco come l'abbiamo raggiunto quindi la storia poi è un flashback tutto in flashback ed è un susseguirsi di avvenimenti che non lasciano spazio nemmeno per un attimo al lettore tra sfide del passato inganni del presente e uso capioni del futuro ragazzi lo so che avete imparata in questa storia la parola uso capione massimo de vita illustra con un tratto che qui raggiunge la piena maturità artistica secondo me pulito eccolo qua ragazzi che che splendore che splendore illustra una serie di gag che sono a dir poco esilaranti per una storia che ha fatto scusatemi il gioco di parole la storia una delle mie storie preferite con il tratto del maestro massimo de vita è topolino e l'intruso spazio temporale scritta da giorgio pezzin l'avessi per la prima volta nell'estate precedente all'inizio della prima elementare e ne rimasi fondorato grazie a questa storia scoprì il filone delle storie della macchina del tempo che tuttora amo profondamente la storia è avventurosa è ironica è piena di colpi di scena ma soprattutto mette in luce il tratto fantastico di debita che tratteggia una francia del quinto secolo suggestiva meravigliosa dai sotterranei di un monastero all'accampamento di attila alle movenze le registrazioni dei personaggi che sono favolosi dai primari da topolino gamba di legno pippo che questa storia è veramente in stato di grazia dal punto di vista grafico fino ai secondari da trudy a zapotec marlin fino agli scalcagnati un un tratto unico di cui mi innamorai profondamente e che pone de vita nell'olimpo dei grandi disegnatori di topi la mia storia preferita disegnata dal maestro massimo de vita è senza ombra di dubbio topolino e ritorno al passato storia che inizia con un viaggio nel tempo viaggio nel tempo in cui topolino e pippo incontreranno un bambino che si rivelerà essere un personaggio molto speciale in questa storia c'è di tutto divertimento mistero magia ciò che mi ha sempre colpito sono i meravigliosi dialoghi scritti parzialmente in rima e i disegni che sono davvero stupendi se non l'avete mai letta fatelo anche perché piccolo spoiler alla fine viene svelato uno dei misteri più grandi della storia quello di nostra dames il mattino a loro in bocca e fin qui ci siamo da cosa nasce cosa non temere le più dure fatiche queste le tre massime della mia storia preferita di massimo de vita paperino e le massime di zio paperone ce n'è anche una quarta in realtà ma non è importante divertitevi a cercarla è una storia da lui scritta e sceneggiata e che ci spiazza fin da subito e ci accompagna in un'avventura che non so quanto tempo ci vorrebbe per spiegare tutti gli insegnamenti che ho appreso da piccolino uno su tutti il duro lavoro paga sempre se sei disposti però a compiere certe scelte a crederci davvero e soprattutto a fare pesanti sacrifici vi invito a leggerla per scoprire un'avventura bellissima e anche qualcosa di voi stessi fatemi sapere se anche voi avete odiato qui o qua ciao la storia di massimo de vita che vi consiglio di leggere e che lo vede nel ruolo di disegnatore lo vede in collaborazione con casti non è una storia sono delle storie dove c'è protagonista doppio scherzo adesso vi faccio vedere eccolo qui molti magari ricorderanno la sua prima apparizione di topolino e apprezzo molto questo personaggio perché come ha detto de vita nella nostra intervista a ventennipaperoni.com topolino non è sempre come noi l'abbiamo stereotipato cioè il perfettino ma topolino può provare gelosia invidia delusione può essere lui stesso pieno di rabbia e di ira e secondo me la figura l'entrata in gioco della figura di doppio scherzo ci ricorda che anche il topolino può rappresentare l'uomo medio con tutti i suoi difetti una delle mie storie preferite di massimo de vita è paperino e il segreto della 313 uscita nel 1995 scritta da michelini e destinata appunto da massimo de vita in questa storia paperino dopo essere stato lasciato a piedi per l'ennesima volta dalla 313 in panne racconta pico di come è entrato in possesso del suo iconico macinino mentre si trovava in messico con paperina per girare un film durante il racconto paperino facendo all'incontro con un'eremita che infonde una non ben specificata scintilla di vita di cui però paperino non ha ancora avuto prova nel finale molto bello ed emozionante pico comprende in cosa consiste questa scintilla di vita e a seguito di ciò paperino decide di non abbandonare mai la sua amata 313 anche se questa continuerà a perdere ruote a rompersi in mille altri modi lasciandolo spesso a piedi inoltre i flashback messicani si rifanno al cortometraggio del 1937 don donald di cui tra l'altro si è occupato mattia nella prima puntata di piume animate se vi dovesse capitare di recuperare questa storia vi consiglio in modo spassionato di leggerla perché è davvero molto interessante scegliere una sola storia tra quelle di massimo de vita è stata un'impresa quest'attore per me infatti è stato uno dei più formativi in senso assoluto dovendo scegliere però voglio parlare di topolino la spada di ghiaccio beh lo ammetto è un po come barare alla fine la spada di ghiaccio non altro che la prima di una serie di ben quattro storie che insieme formano una grande saga la prima volta che l'ho letta frequentavo le scuole elementari ed ero in fissa con il fantasy e con topolino la saga fonde secondo me in modo intelligente questi due mondi da una parte c'è un grande senso d'avventura fra maghi elfi giganti viaggi avventurosi mitologia norrena e anzi questa avventura si rinnova di capitolo in capitolo d'altra parte però debita non rinuncia mai all'ironia e così avviene per esempio che il percussore di cristallo che serve a passare da una dimensione all'altra venga rimpiazzato da un cucchiaio da cucina oppure avviene per esempio che la quarta parete venga abbattuta brutalmente di volta in volta o ancora avviene che l'eroe non sia alf il leggendario cavaliere senza manca e senza paura ma semplicemente pippo vi consiglio di recuperare tutte queste storie se non l'avete ancora fatto e se potete fatelo sotto natale vi ringrazierete grazie a tutti